Ehi ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi siamo qua per cominciare veloci ma oggi pretendo che le completiamo in modo velocissimo che le completiamo subito quindi adesso ragazzi dopo la mia video ci vediamo quando uscirà la rapina direttamente ok raga dopo due distruzioni normalmente alla terza ci hanno dato una mega rapina ok 4x3 ok ce ne va pure bene con la super diciamo con i tre diamantini anzi ringotti d'ora nel cash per sto dicendo raga e oggi sto tutto fumato lasciamo perdere adesso vabbè migliorare l'edificio non ci mettiamo niente raga ok risolviamo e che dire raga non ci appena essere un pezzo e abbiamo fatto ora ci appena per il pacchetto vediamo se ci trova qualche carta nuova ci farà completare qualche nuova set tocca e nuova carta vediamo se abbiamo completato che set c'è nuova rega incredibile cioè guardate qua due sette mi mancano da completare mi mancano tutte le altre due tre carte vabbè questi saranno dettagli allora 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 ora ora allora Grazie a tutti